Ho tanta fome, voglio mangiare, la pizza è in arrivo, la mia deliziosa colazione del nipotino sta arrivando, la mia fantastica torta, dov'è il mio cibo? Scegli tu, cosa? No, non è quello che voglio, cosa mai sta disegnando? Ecco, io voglio un hamburger, un hamburger, ma non è un cibo molto sano, hamburger? Ok, accetto la sfida, hamburger grande, ok, Mangiamo, ok, vabbè, faccio in fretta così, bene, i pomodori, vediamo, così, ma perché non si toglie? Vabbè, non è un gran che, vabbè, limitiamo sul panino, e adesso il formaggio, farò almeno del frutello, che furbo che sono, grande, ecco, oh no, la mia polpetta va a fuoco, va male, Vabbè, con i guanti è molto meglio, ok, adesso sì, quindi la metto qui, bene, ecco, però con un altro panino, così Ok, ah, no, le mie mani, quindi panini, cotoletto? Non credo, ne farò meno, una mela, e quello che serve è la mia nipotina, e un altro frutto sano, sì, la banana, e poi ovviamente il kiwi, e le fragole, sì, bene, bene, e ora vinciamo tutto insieme, e avremo un hamburger di frutto molto nutriente, sembra fantastico Allora, lo chef finisce a cucinare, preparerò il migliore hamburger di sempre, ecco, tutti gli ingredienti sono al loro posto, bene, uh, che profumo, allora, bene, mmm, sì, mi piace, prima le cipolle, poi ovviamente il formaggio, Ah, polpetta e l'insalata, e di nuovo il formaggio, sì, delle carote, e così ancora i pruni, bene, voilà, l'hamburger è pronto Oh, ma io l'ho fatto meglio Ah, finalmente, posso sciogliere, che schifo, questo è orribile, che incubo, non lo mangerò, lo butto via Vabbè, diamo un'occhiata a questo hamburger, sembra bello, proviamo Non male Ok, va bene Che bello hamburger, ed è così grande Proviamolo Mmm, che buono che è Ok, bene, bene, io scelgo questo Oh, sapevo che avrei vinto Eeeh, lo vedremo ancora Ok, io voglio la limonata Cosa? Una limonata? È facile Ok, iniziamo Ok, aspettate un attimo Posso farlo così? Bene, e adesso io devo aggiungere lo zucchero Ok, vediamo Perfetto E adesso aggiungo Ecco, così Bene Mmm, perfetto Sì, questo bicchiere è stupendo E adesso prendiamo il ghiaccio Mmm, mi piace Uh, che bello Ah, sì E adesso verso tutto quanto nel bicchiere Ah, sì, così Che ci fa? Ma cos'è? Ok, ecco i miei limoni Spremo il succo così nell'acqua Mmm, bene, bene Sembra fantastico Ok Assaggiamo Mmm, è così agido Devo aggiungere dello zucchero Mmm, così Meglio Ah, ok Ma sarà sufficiente? Ho di più Mmm, ne aggiungo di più Così Eh, ma io cosa devo fare Ah Ehm Hmm Io ho un'idea Io aggiungo dei cioccolatini Sì Così Aggiungo l'amondam Si è gelato Bene E adesso devo aggiungere del latte E adesso mescolo tutto Mmm, bene E verso tutto ciò che viene fuori Qui Il tocco finale Lo canuccio Guarda, nonna Caro ragazzo Bevelo tu Ecco una vera limonata Cosa? Una vera limonata Cosa? Ecco il tocco finale Sono le bacche E ok E non dobbiamo dimenticarci Delle fragole E adesso Verso tutto quanto Mmm, mescolo per bene Ok Aggiungo i merzilli qui Fatto E adesso Devo versare tutto quanto Ecco Bene Che bellezza Ok Scegli Kate Mmm, come interessante e colorato Credo che incerò con questo E' così bello Molto buono Mi piace Ok Vediamo E cosa abbiamo? Proviamo Ok Che acido che è? No, no, no Non voglio E questo cos'è? Cos'è questo? D'accordo Non lo so Ma provo Ma è delizioso Io scelgo sicuramente Questo cocktail Wow Ho vinto Evviva Bravo ragazzo mio Grazie Sì, sì, sì E cosa vuoi? Voglio delle patatine Ehm, patatine? Davvero? Vabbè Ok Prendo la patata Lo faccio così Perché devo spelarla Bene Ok Grande Eh Cosa? Ma io posso fargli meglio Guarda e impara Questo è il modo migliore per farla Eh ma Cosa? Ma guarda Quante patate ho io Ehm Adesso accelero Cosa farò con queste patate? Ok Farò un altro tentativo Mmm Ok Grande Fatto Ma sei stupido Guarda Ebbene E adesso Devo tagliarli Così Ebbene Cosa? Ah vabbè Vincerò comunque io Ok Eccoci qua Mettiamo queste patate Il latte Bene 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 Prendiamo questi stampi Ok E ovviamente Aggiungiamo L'avocado Però prima Sì Lo dobbiamo sbucciare Così Togliamo il nocciolo Così Lo sbucciamo Per bene E lo aggiungiamo Dentro al mixer E ovviamente Il sale Così Bene E mescoliamo Per bene Il tutto E adesso Versiamo Mmm Che profumino Le mie patatine Perfette Sono quasi pronte Bisogna aggiungere Sì L'erba cipollina Cosa? Puoi vincere Con queste patatine? Aggiungiamo L'erba cipollina Ho capito Cosa devo fare Con le mie patate Non resta Che aspettare Evviva Sì Così Oh Ma fuoco Oh no Vediamo Perché Sono completamente Neri Oh Vabbè Ma vabbè Comunque Adesso tolgo Bene Ah sì E mettiamo il sugo Benissimo Ok Ma è troppo stravagante Assaggia Vediamo cosa abbiamo qui Ok Sembra buono Ma anche questo è molto bello Ma questo cos'è? Ma è nero Ma che Ma no Che spavento Che schifo No Non le provo neanche Troviamo queste patatine Vediamo Buono Mi piace Cosa abbiamo qui Ehm Strano Ma è bello Vediamo Ma è delizioso Sì Salgo Questa delizia qui Sì Io ho detto Che vincevo Che vincevo Un secondo Ecco Voglio il gelato Vabbè È facile Prendo la ciotola Metto del ghiaccio E sopra ne metto un'altra Mi servirà Sì Dello zucchero La panna E dei coloranti Sì Sì Non è male E adesso Mi serve lo stampo Ecco Grazie alla sacca pasticcera Io la riempio Il gelato Interessante Interessante Beh Io ho la mia ricetta Ah Che bello Le fragole fresche Adesso Le taglio E le metto Dentro E aggiungo La panna E adesso Devo Sì Mischiare così Oh no La mia mano Anch'io La mia ricetta Allora Taglio così E adesso Ecco Grazie al frullatore Devo mischiare tutto Oh sì Oh E così se cosa Proprio quello che serve E adesso Versa tutto quanto Qui E metto Sì Un bastoncino Fatto Nonna Anch'io finita E allora Mettiamo Tutto quanto In freezer Dai su Apri Così Anche il tuo Mettiamo qua Oh Vabbè ragazzi Ecco La mia torta Gelato E pronta Adesso Devo decorarla Allora Mettiamo Degli zuccherini E dei coni Che bello Non male Voglio decorare Anche il mio Gelato Così Con le fragole Che bello Che Dai Su prova Oh È così interessante Oh Qui c'è una torta Parto dalla torta Devo prenderlo così Con il cono E così è più sitoso Oh Qui ci sono Degli zuccherini Li aggiungo sopra Che bello È molto buono Ok Provo il gelato Di Ben Sembra bello È molto L'anguria Però non riesco A morderlo E vabbè Non oggi Ok Nonno Che bello Il gelato La fragola E la fragola Sì È così buono Voglio mangiare Ancora Ancora Sì Lo adoro Nonna Tu hai vinto Evviva Evviva Sono così brava E adesso Voglio un biscotto Questo Ce lo farete Ma Come si fanno i biscotti Facile Adesso lo vedrete Ok No I biscotti Non sono i migliori Allora Metto le uova La farina Il latte E mescolo Tutto quanto E ovviamente Il burro Così Un pezzo E lo zucchero Ancora Sì Sarà molto Buono E adesso Preparerò I biscotti Così Ecco Vedete Com'è Basta E adesso Le metto Le metto E faccio Una faccina E con questo Posso fare Sì Degli orecchi E poi Per il naso Metto Un M&M's E grazie al cioccolato Farò gli occhi Così Guardate Che bel topolino Il cioccolato È molto buono Nonna Ma cosa sta facendo Guardi Io faccio tutto quanto Con Un professionista Però tutto quanto In pochi secondi Io che devo fare Il burro di arachidi Proviamo Sì Oh va bene Per i biscotti Ok Con cucchiaino E aggiungo Sì Della caramella No no Com'è Ben Ma guarda Io devo mettere Nel forno I biscotti Apro il forno E metto I biscotti Adesso Devo mettere Il timer E aspettare E io Farò i biscotti Dai su Oh oh Mi scusi Chef Ma cosa Ben Hai Rovinato La mia pastella No E ora Tiro fuori Ah che profumina Oh nonno Che bei biscotti E lo sei afferrabbiata Va bene Non puoi far nulla Dai Paige Prova Eh vai Questo Cos'è No Ma non è un biscotto Rischia No Che schifo Io non lo provo Io provo Questi topolini Oh Ma sono buoni Oh Il mio dente Cos'è questo È la della del mio nonno No Non va bene E ben Cosa ha fatto Sì Ma non è un biscotto Vabbè Provo Mmm Ma è buono Voglio ancora Ben Vabbè Hai vinto tu Davvero Questa volta Voglio un on-dock Vabbè È facile da fare Allora Prendo la salsiccia E la preparo O così È più presto E adesso Devo girarla Oh oh Ma si è bruciata E vabbè Forse devo aggiungere Dall'olio Così Non brucerà Metto la salsiccia Oh no C'è l'olio Che schizza Salmi Basta Ben Metti coperchio Oh Va bene Oh Così meglio Eh la nonna Non può considerare Qualcosa di cazzivo Ma cos'è questa puzza Ben Ma brucia Guarda Ma cosa c'è Ma perché Ti muovo Oh Ho bisogno Di più olio Oh no Oh no C'è il fuoco Ben Ma che fai Ma fa male Oh Devo aggiungere Dell'acqua No Non riesco a respirare Ecco il successo Con la salsiccia E vabbè Devo metterla Così Bene Lo so Aggiungo del ketchup Mi aiuterà Così meglio Nonna Guarda Cosa Ma dai E io continuo Prendo Le verdure Taglio Pomodori Oh che bello L'insalata Ok Ok Metto qua E Sì La carota Sarà al posto La salsiccia Questa è Un dog Sanna Ma cos'è un dog Adesso le farò vedere Cos'è questo dog Ecco fatto E adesso Taglio La cipolla E ovviamente Il pomodoro E vabbè Devo aggiungere Anche dei sottaccezzi Adesso Taglio E metto Qua l'insalata Le cipolle Poi I pomodori E la salsiccia Ovviamente E aggiungo Della senepe E del ketchup E per essere Più piccante Aggiungo I doritos Così deve essere Un dog Sono sicuro Che piacerà Pace E vai Il mio dog Ma questo Vabbè Vado No C'è un'altra ketchup E qualcosa di bruciato Che schifo E questa cos'è Ma dov'è la salsiccia No Con le verdure Non mi piace E questo Sembra Molto appesitoso Dai Vieni qui Sì Che buono Che Questa è la vittoria Ho vinto Vabbè Sì Ti è piaciuto il video Allora iscriviti Su Multido Challenge Qui ti aspettano Sempre dei video Meno divertenti E interessanti Ci vediamo Ciao 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 Grazie a tutti.